È il momento di TV Week e allora è il momento di HRTV Week per parlare di un argomento sicuramente interessante anche per chi segue abitualmente il flusso della nostra diretta sui mercati, perché parliamo di trading, anzi parliamo di algo trading, il focus oggi è questo, il contesto odierno riscrive i modelli per fare business, l'incremento del distanziamento e del lavoro del remoto esigono l'implementazione di nuovi strumenti con una forte componente automatica capace di offrire performance e sicurezza in ogni situazione. Il 23 marzo 2020 è suonata la campanella Wall Street, ma in che modo? Voi direte come sempre. Per la prima volta in 228 anni di storia la sala del New York Stock Exchange è rimasta vuota, mentre i mercati erano aperti, il trading floor più famoso al mondo ha temporaneamente chiuso le porte, lasciando a casa centinaia di broker di trader e con tutte le negoziazioni portate avanti in modalità interamente elettronica. L'algo trading, e qui veniamo al focus di oggi, rappresenta l'80% del volume del mercato azionario americano rispetto a quello che era il 15% pensate nei primi anni 2000. Questo è il punto da cui partiamo con i nostri ospiti e lo facciamo con Valerio Pagano che è qui in studio con noi. Ciao Valerio, founder Sparkling Rocks, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti. E con Carmelo Maraschiello in collegamento, responsabile Flow Business Equity Trading Desk di Unicredit. Carmelo, buongiorno e anche a te grazie per la disponibilità. Salve e buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a te, ovviamente l'audio è buono, ovviamente per Carmelo tu sei qui in studio quindi non c'erano dubbi. Allora, cominciamo proprio da Valerio Pagano, appunto founder di Sparkling Rocks, per cercare un po' di, diciamo, mettiamo le basi, insomma partiamo dalle basi, anche magari per chi è più indietro da questo punto di vista e quindi come definiamo il concetto di algo trading e perché, un po' l'abbiamo anticipato ma adesso Valerio ci spiega meglio, è diventato così importante in un periodo così delicato e così inedito come quello appunto che stiamo vivendo. Valerio. Grazie. Beh, l'algo trading è il connubio tra un approccio analitico, quantitativo su tutto quello che è il mondo economico finanziario e un approccio poi automatico su tutto quello che è l'operatività. Poi i risvolti sono molti, cioè questo termine poi racchiude veramente un mondo che si sviluppa in mille sfaccettature e mille specificità anche perché lo è il mondo stesso della finanza di per sé. Logicamente l'algo trading che conosciamo oggi non è l'algo trading degli anni 2000, c'è stata un'evoluzione, c'è stato non solo un incremento a livello, in termini appunto di liquidità gestita sui mercati finanziari, ma anche in termini qualitativi, sono cambiate molte cose, siamo comunque entrati nell'era del dato, non solo in termini di profondità ma anche di eterogenità. C'è stata una spinta molto forte su tutto quello che riguarda l'approccio appunto quantitativo e poi soprattutto c'è stata anche una spinta molto forte su tutto quello che è l'informatica, la tecnologia che ha avuto ovviamente i suoi riflessi in questo mondo. Tutti questi elementi ovviamente hanno radicalmente cambiato le piattaforme di algotrading, noi nello specifico, se posso dirlo, stiamo appunto investendo parecchio, rischiando parecchio in un prodotto, speriamo che sia l'avanguardia, che si chiama Jagged Island, che appunto cerca di fare proprio tutti questi requisiti. Quindi innanzitutto sfruttare appunto l'eterogenetà del dato, la nuova frontiera sono anche le notizie, le cosiddette news, quindi oppure l'approccio tecnico attraverso AI, oppure appunto una serie di tool, strumentazioni che forniscono e agevolano il quant in tutto quello che è l'attività di sviluppo e monitoraggio e controllo degli algoritmi. Alla fine il nocciolo è quello di far risparmiare tempo e di conferire qualità al lavoro del quantitativo, ma soprattutto dargli una leva moltiplicativa al suo lavoro, quindi visto che poi anche i quant, soprattutto i quanti di qualità, non si trovano così facilmente, perché serve anche un po' di qualche caratteristica di brillantezza poi per affrontare questi temi. Sull'importanza dell'agotrading, diciamo che è importante di per sé, è importante di per sé perché ha dato molto valore appunto in termini di tempo, ma pensiamo anche a elementi come la classica differenziazione di portafoglia, per andare verso una migliore gestione del rischio, diciamo che ci sono tantissimi vantaggi in termini generali. In questo periodo, se vogliamo contestualizzarlo, in questo periodo, mi viene in mente, allora, è evidente che il cosiddetto smart working, che forse per certi aspetti è più telelavoro, però ha avuto, si è presa della tecnologia per andare a riorganizzare in modo radicale un po' la logistica, l'organizzazione del lavoro, per cui si fa da casa. Però spesso, quindi ci sono molti vantaggi su questo, però c'è anche qualche difetto perché una persona lavorando da casa logicamente si trova in un ambiente che potrebbe avere dei limiti in termini di spazio e anche in termini di concentrazione. In questi termini, cioè su questo tipo di problematica, per esempio l'Igo Trading ha creato un grosso differenziale temporale tra quello che è il momento decisionale e quello che è il momento operativo. in passato il trader, classicamente il trader, ma comunque in finanza, cioè leggevi l'informazione dai giornali, dai data provider, prendevi la decisione contestualmente e poi nel momento in cui gestivi in real time la posizione, incrociavi le dita, sì, incrociavi le dita, ma era anche un continuo pensare su come comportarsi sulla posizione. In questo momento invece l'Igo Trading dà questa possibilità di creare una grossa distanza temporale tra il momento decisionale e il momento operativo. Quindi è oltretutto il momento operativo che significa mettere in piedi, implementare appunto i sistemi e metterli all'opera sul mercato, monitorarli e controllarli. Logicamente se fai questo lavoro da casa sei un attimo più tutelato, perché comunque è una sorta di pilota automatico che lavora all'interno poi di limiti, di protezioni eccetera e quindi può dare un attimo di protezione. Cioè mi immagino il trader di 15 anni fa che scambiava, non so, 100 milioni in future ogni mezz'ora e se lo facesse adesso dalla cucina di casa col figlioletto che gli cammina dietro il pc magari qualche problema ce l'avrebbe. forse magari l'agotrading questo, cioè i sistemi, le piattaforme che poi appartengono a un mondo più grande che è quello proprio dell'approccio qualitativo alla finanza può aiutare. Assolutamente, mentre tu parlavi Valerio ho preso qualche appunto e qui vengo da te Carmelo perché abbiamo parlato di approccio quantitativo, di tecnologia, di era del dato che hanno contribuito insomma allo sviluppo dell'agotrading. Insomma sono tre punti fondamentali. Ti chiedo su quale pensi sia magari importante soffermarsi maggiormente? Insomma prima di passare a vedere più nel dettaglio perché Valerio qualcosa ci ha già anticipato quali sono le applicazioni migliori insomma che l'agotrading offre. Carmelo? Ma diciamo che i tre elementi che hai citato sono tutti e tre se vuoi altrettanto importanti perché diciamo che si è riusciti ad arrivare a quello che è oggi il mondo se vuoi dell'agotrading che poi è un ombrello che al suo interno racchiude tantissime tipologie di attività differenti proprio alla possibilità di riuscire a gestire una quantità importante di dati in modo efficiente grazie alla tecnologia e con la possibilità di ottenere dal dato diciamo grezzo ulteriori informazioni grazie proprio a quello che può essere un approccio quantitativo. Come, insomma, ci ho parlato da Valerio se si pensa a come funziona il mondo della finanza dell'operatività sui mercati in realtà sono pochissime e pochissima l'operatività che viene svolta al di fuori del concetto di algotrading. Mi viene in mente soltanto l'ordine messo direttamente al mercato da una persona senza diciamo con un limite di prezzo che è all'intorno di un bid offer tutte le altre tipologie di interazioni col mercato prevedono in qualche modo praticamente l'utilizzo di una qualche strategia che appunto si fonde si basa in qualche modo sull'utilizzo di strategie di strategie algo anche se non è diciamo un lato dell'ordine che praticamente sta utilizzando questa tipologia di strategia molto probabilmente la controparte che andrà invece a colpire il suo ordine sta operando tramite una metodologia algo questo perché perché molto banalmente da quando si è passati dal mercato allegrì dal mercato telematico è aumentato esperanzialmente il numero di sottostanti che è possibile tradare e a loro volta sono aumentati gli strumenti derivati o comunque in qualche modo legati a questi stessi sottostanti e quindi di fatto si è posto il problema per tutti gli operatori di riuscire a gestire in maniera efficiente in tempo reale è su un intervallo di tempo abbastanza lungo se si pensa che nel corso della giornata la maggior parte dei sottostanti votano più di 12 ore si è posto il problema di riuscire quindi a fornire costantemente liquidità e l'unico modo diciamo l'unico sistema che ha consentito di raggiungere questo obiettivo è stato proprio quello dell'utilizzo di questo concetto di algo trading che proprio nell'attività del market making forse è la declinazione più importante in quanto è una delle attività che garantisce in qualche modo il funzionamento del mercato che consente di fornire liquidità in momenti differenti e diciamo un esempio anche tra virgolette semplice che è l'idea di come possa essere importante il concetto di algo la possibilità ad esempio di votare un prezzo su uno strumento che in quel momento sul suo mercato di riferimento non sta facendo prezzo grazie all'utilizzo magari di alcuni di altri elementi di altri sottostanti che sono benchmark che quindi tramite anche un semplice approccio diciamo di pesi differenti assegnati a questi belger di riuscire comunque a ottenere un prezzo in denaro in lettera per uno strumento che altrimenti non avrebbe avuto possibilità di tradare in quel momento quindi di fatto l'avvento di queste strategie di algo in qualche modo ha contribuito anche all'aumento della liquidità e della profondità del mercato quindi è stata un'innovazione senz'altro importante da questo punto di vista perfetto hai Carmelo direi citato altre due keyword importanti e cioè market making questo mi sembra di capire quindi rimango da te è una delle applicazioni più diffuse più richieste da parte di clienti da chi si vuole affidare a questo tipo di strumento ed è anche correggimi se sbaglio l'ambito dove magari ci sono anche maggiori possibilità di crescita insomma di sviluppo Carmelo Maraschiello che ricordo essere responsabile Flow Business Equity Trading Desk di Unicredit sì sì assolutamente e market making se vuoi probabilmente l'attività dove viene utilizzato maggiormente il concetto di algo trading anche se vuoi con una funzione anche informativa da un certo punto di vista perché comunque la possibilità di mostrare costantemente dei prezzi a mercato anche senza che ci siano poi effettivamente transazioni su questi valori è comunque un sistema di trasmissione dell'informazione importante per tutti gli operatori che prezzi questi che a loro volta magari possono essere anche degli input per sistemi che anche rientrano magari nel concetto più ampio di algo trading che sono invece intesi come sistemi di trading automatico quindi in qualche modo l'attività di market making rappresenta diciamo l'esempio più calzante perché se da un lato diciamo utilizza il meccanismo base del concetto di algo trading quindi andare a generare dei prezzi sulla base di alcuni indicatori dall'altro lato fornisce anche i building block se vuoi i mattoncini che possono essere utilizzati per strategie più complesse magari operative basate su segnali anche macro di altro tipo che chiaramente per essere messi in pratica hanno bisogno comunque di acquistare o vendere determinati prodotti finanziari che sono a loro volta quotati da probabilmente operatori che stanno facendo market making tramite strategie algoritmiche torno da valerio mi incuriosisce il nome della società sparkling rocks c'è un motivo per cui avete scelto questo nome che io sono sempre affascinato dalle origini dei bike l'ho scelto io però non è molto attenente all'uomo della finanza semplicemente c'era un periodo stavo lavorando così tanto che avevo voglia di vacanza e pensavo alle island scozzesi e poi agli scogli e quindi da lì è venuto un po' fuori il nome beh ci sta ci sta ci sta parentesi che chiudo tra poco a proposito di isole scozzesi non le ho viste vorrei andarci anch'io ma se vai un po' più su ci sono le isole Faroe che sono molto simili a quelle scozzesi e sono a proposito di rocks meravigliose anche per le scogliere insomma per quello che offre scusa anche a Carmelo per questa piccola digressione che abbiamo fatto con Valero poi magari ci dici anche tu magari quali sono i tuoi obiettivi di viaggi quando potremo tornare a farlo ovviamente torniamo a concentrarci sul nostro focus e cioè appunto algo trading market making abbiamo detto con Carmelo ce ne sono poi molte altre di applicazioni e probabilmente per quanto il market making sia appunto come ha detto Carmelo Maraschiello uno degli ambiti dove può crescere di più questo questo strumento al di là del market making comunque c'è un mondo insomma da esplorare per quanto sia diciamo meno utilizzato al momento rispetto al market making sì c'è un mondo beh diciamo che il market making sicuramente a livello di masse ovviamente è una quota importante di tutto il mondo algo trading però ci sono molte tipologie di attività ricordiamo life frequency trading che è salito la ribalta 5-6 anni fa nel 2010 probabilmente se non ricordo male c'è stato un flash crash sui mercati americani di 9 punti percentuali ossia life frequency è sostanzialmente un sottogruppo dell'algo trading dove si dà maggiore importanza all'hardware per raggiungere velocità molto più elevate quindi ultra low latency quindi c'è una concentrazione maggiore sulla parte hardware per poi andare a intercettare quelli che sono arbitraggi o soluzioni di vantaggio che possono che possono derivare da questa elevata velocità sinceramente io sono molto legato e anche anche Jackie Dina un po' la sua il cuore di partenza è quello dell'algo trading classico cioè sono affascinato dal dall'approccio analitico su tutto quello che è il mondo economico finanziario quindi andare a studiare questo mondo significa non solo avere a che fare con variabili discrete o con ragionamenti logici ma molto spesso si affrontano anche variabili di tipo sociale o psicologico quindi deriva poi la necessità di risolvere problemi di natura complessa e quindi richiedono anche una eterogeneità dei dati logicamente poi questo questo tipo di approccio quindi quantitativo non necessariamente ha come auto poi l'operatività perché può essere anche sfruttato per andare a fare una andare a vedere il mercato cioè rielaborare le informazioni per andare a analizzare il mercato e quindi avere uno spunto informativo Valerio come che approccio c'è da parte dei clienti insomma da parte degli operatori nei confronti dell'algo trading nel senso c'è una grande aspettativa da parte loro proprio perché come dicevi tu non siamo più come era prima o meglio ci sono ancora situazioni più classiche in cui il trader ragiona con i suoi strumenti senza ricorrere a questo strumento però l'attesa è molto alta insomma ci si aspetta che basta affidarsi a un algo trading e insomma anche magari per smontare se ci sono eventuali così insomma non voglio chiamarle bufale però magari qualche pensiero qualche credenza da parte di chi segue ma che non si fida e che magari appunto ha bisogno di chiarirsi un po' le idee da questo da questo punto di vita insomma quali sono le aspettative degli operatori dei clienti quando decidono di affidarsi a chi gestisce uno strumento del genere beh qui forse bisogna dividere il mondo istituzionale dal mondo poi retail perché il concetto di algo trading è un concetto che viene utilizzato anche su piattaforme private logicamente c'è una diversità tra un software di natura industriale e poi invece software che vengono utilizzati i privati generalmente chi è un protagonista del mondo del mondo quant del mondo analitico non cade dalle nuvole non ha strane idee cioè come tutti i lavori c'è tanto da fare è un lavoro che si fa e si rapprovano i frutti giorno dopo giorno logicamente il mondo che ci aspetta ricco di informazioni di innovazione eccetera non può farne a meno cioè è il nuovo modo per affrontare tutti i temi legati al mondo economico finanziario quindi è uno strumento importante non riesco a immaginare nessuno che possa ad assorbire a ogni istante di secondo i triliardi di informazioni che arrivano in ogni istante metabolizzarle analizzarle e produrre una decisione è sostanzialmente impossibile quindi cioè lavorare senza questo strumento significa lavorare a cieca sui mercati finanziari poi logicamente c'è tutto un altro mondo soprattutto vedo in questi un po' mi spiace vedere in questo periodo molte pubblicità tra virgolette un po' imbarazzanti a volte classicamente investi qui che diventerai ricchissimo la famosa espressione ragazzi sono veramente euforico che è diventato poi virale ma non come avrebbe voluto lui ma più perché insomma ti strappavo un sorriso amaro nel senso che era chiaro insomma dove volesse arrivare però immagino che tu stia parlando di quel tipo di comunicazione insomma sì esatto l'algotreni è una tecnica è uno strumento è un approccio da cui non si può preinscindere nel mondo appunto economico finanziario dove andiamo detto ciò come tutte le cose occorre fornirsi di una buona cultura e di tanto impegno e affrontare un lavoro quotidiano quindi poi ci possono ci possono essere sicuramente ottimi risultati e oltretutto è anche un mondo estremamente interessante perché le tematiche di Tewing coinvolgono poi sono di diversa natura no? un tema economico finanziario temi problematiche informatiche cioè ci sono è veramente un mondo molto ricco Carmelo torno da te perché dunque si parla di algo trading si parla di presente ma si parla anche inevitabilmente di futuro e quindi vorrei chiederti proprio insomma come vedi questo strumento proiettato nel futuro quali sono le potenzialità insomma e come appunto le persone i grandi prima Valerio ha diviso il mondo istituzionale e quello privato quindi anche su entrambi i fronti insomma il futuro dell'algo trading per farla più breve qual è secondo te e quali sono le potenzialità insomma da questo punto di vista sì anche giustamente come diceva Valerio c'è davvero una distinzione fra retail e istituzionale al mondo retail sicuramente sono presenti e continuano ad aumentare delle strategie offerte come pacchetti come prodotti singoli dove praticamente l'investimento è basato su diciamo strategie algo quindi sulla base di determinati indicatori specifici il cliente potrà avere accesso a una tipologia di investimento che magari singolarmente non sarebbe in grado di mettere in piedi e invece il mondo istituzionale chiaramente è qualcosa che da anni va avanti c'è a disposizione una potenza di calcolo superiore da molti anni che comunque grandi agifar andranno in piedi strategie basate su algo e queste continueranno a essere presenti continueranno in qualche modo a influenzare il mercato in maniera che a volte riusciamo a vedere praticamente come quando c'è stato il flash crash a cui faceva riferimento Valerio altre volte non lo vediamo se non in termini di efficienza di prezzi che magari su piazze differenti sono allineate perché ci sono strategie in piedi che si preoccupano comunque di approfittare anche delle minime dei minori scostamenti quindi da questo punto di vista anche tutto il crescere di queste strategie algo la ricerca di inefficienze aumenta in qualche modo diciamo l'efficienza del meccanismo di trasmissione dei prezzi all'interno del mercato dal punto di vista diciamo del market making che è il mondo che guardo più da vicino che è un po' più noioso di quello descritto da Valerio chiaramente l'aumento dell'utilizzo di una quantità di dati sempre maggiori la possibilità di avere computer sempre con potenze di calcolo insomma sempre in aumento più performanti assolutamente poi nella sfida comunque di riuscire a offrire un servizio su un numero sempre crescente di prodotti in un intervallo di tempo sempre più ampio quindi avendo la necessità magari in alcune fasce orarie di avere meno sempre meno persone in grado comunque di monitorare quello che sta succedendo alle due quote e quindi diventa molto importante avere algoritmi di quotazione efficienti che siano in grado comunque di tenere nella giusta considerazione tutte le variabili esterne che in qualche modo potrebbero incidere sui prezzi e a questo proposito anche utilizzare dei meccanismi di sicurezza che tengano proprio conto di queste variazioni oppure di movimenti di prezzi che a prima vista non potrebbero impattare direttamente magari le quote che hai fuori però a distanza di pochi secondi potrebbero farlo e quindi essere in grado anche di vedere una sorta di meccanismi previsivi che ti consentano una maggiore sicurezza e che si traduce inevitabilmente nella possibilità di estendere la gamma di prodotti quotati e quindi offrire anche servizi migliori per i clienti Stessa domanda che giro anche a Valero qualcosa ci hai già anticipato però insomma come ben detto Algo Trading è presente ma anche è presente quindi life is now però è anche futuro ci ha spiegato sul market making quali possono essere gli sviluppi fuori dal market making insomma possiamo dire che chi fa economia chi fa finanza avrà inevitabilmente bisogno dell'Algo Trading per così insomma rimanere diciamo aggiornato e rimanere a galla dato che prima abbiamo parlato di mare insomma in qualche modo sì guarda forse nel futuro c'è da sviluppare tutto ciò che c'è nel presente oltre a novità che arriveranno sicuramente però ci sono tanti temi che sono stati aperti che devono ancora trovare una loro maturità penso nello specifico a tutto il mondo AI che ovviamente è entrato con prepotenza anche se esisteva da parecchio però evidentemente ci vuole sempre del tempo perché queste cose emergano per esempio viene naturale a pensare all'intelligenza artificiale immediato probabilmente una persona pensare all'intelligenza artificiale come supporto nell'attività previsionale in realtà viene sfruttata su tutti i fronti che può essere vanno dall'analisi dell'execution anche addirittura a livello architetturale quando si parla appunto di fare ultra low latency di avere un'architettura che raggiunge velocità importanti si utilizza sempre l'intelligenza artificiale anche per trasferire un dato dal punto A al punto B all'interno dell'architettura quindi sicuramente questo questa organizzazione deve trovare poi la sua monitorità c'è ancora molto da fare su questo fronte però ci sono molte altre cose che potrebbero che possono entrare certe volte mi ritrovo a pensare mi è venuta in mente una cosa in questi giorni ci stavo pensando visto che l'algoritmo sta diventando così importante perché alla fine è il frutto dell'approccio analitico allora perché non non creare un mercato degli algoritmi magari un mercato organizzato oppure provate a pensare adesso classicamente c'è il family banker che va a trovare una persona lo informa e poi gli consiglia come distribuire la propria ricchezza come gestire bene il rischio il rischio il limite eccetera un'altra cosa molto comunicata anche a livello di televisione radio da parte delle grandi banche insomma sì ecco provate a pensare a un mondo dove il mio family banker è un algoritmo io una mattina dico voglio un family banker apro il mio pc e compro 10 quote dell'algoritmo X e questo cosa fa? prende la mia ricchezza e la distribuisce in modo trasversale su più asset class quindi senza stocks, bond, currency commodities e di più perché poi ricordiamo attenzione che tutto il mondo dell'agotrading non lavora solo sui mercati organizzati ovviamente ma ancora meglio su tutto quello che è il mondo di sì anche qui poi tutto è nato ovviamente nei mercati organizzati perché era più semplice perché le informazioni erano già organizzate eccetera però appunto siamo nell'era del dato quindi si stanno facendo i grossi passi in avanti per iniziare a organizzare appunto anche i dati non canonici per cui le frontiere possono essere molte in particolare oppure sto pensando sulla piattaforma che stiamo appunto mettendo in piedi che vedrà la luce all'inizio del prossimo anno e poi sarà oggetto di notevoli sviluppi per i prossimi sicuramente un altro anno e mezzo ma quello a cui si sta pensando anche è di far decadere tutte quelle che sono le non so le 20 window le 20 view dove vai a vedere contemporaneamente 20 grafici relativi a strumenti vari e invece utilizzare un approccio diverso un'unica un'unica interfaccia un'unica view solamente in 3D dove tu vedi il tuo mondo economico finanziario muovendomi muovendoti in questo ambiente spaziale quindi a tre dimensioni o n dimensioni e quindi ma questo per che cosa non per per avere un qualcosa di carino in cui lavorare tutti i giorni ma per riuscire a trasmettere l'informazione in modo più rapido a chi fa attività di monitoraggio e controllo quando gestisci tante variabili mettiamo un portafoglio o 10 portafogli ciascuno magari da 200 strumenti c'è anche l'esigenza di avere un monitoraggio e un controllo per aggregati quindi riuscire in qualche modo ad avere il controllo della situazione cioè quindi si possono veramente si possono veramente fare molte cose poi in futuro però sicuramente occorre partire da tutto quello che c'è già adesso e farlo maturare serve tempo ma insomma ovviamente siamo già sulla strada sulla strada giusta quanto meno dato che insomma ci hai anche dato delle idee concrete su dove potremmo andare ad atterrare con questo strumento Carmelo quando lavori troppo e chiudi gli occhi qual è il posto insomma dove che ti appare diciamo così per uscire un po' dalla routine per chiudere col sorriso mare mare ovunque un po' di mare qualunque sia qualunque posto con una spiaggia ok ok questo perché insomma poco fa poi con Valeria abbiamo spiegato anche l'origine del nome Sparkling Rocks e allora Carmelo Maraschiello responsabile Flow Business Equity Trading Desk di Unicredit grazie a te per i tuoi approfondimenti e grazie ovviamente anche a Valerio Pagano founder di Sparkling Rocks che è stato qui con noi in studio grazie a entrambi per averci chiarito un po' di più le idee e fatto scoprire il mondo dell'algo trading e chissà che non ci torneremo presto grazie Valerio grazie Carmelo grazie a tutti buona giornata e buon lavoro soprattutto buon lavoro anche a voi assolutamente noi ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario al rientro torniamo riprendiamo insomma le redini della diretta del mercato con le vostre domande con Giorgio Pallini a tra poco grazie a tutti